Benvenuti a un'altra puntata di Europe On Air, il format promosso dalla rete nazionale di associazioni del We Care. Io sono Margherita da Trieste e insieme a me c'è Giulia di Firenze e oggi siamo qua con Marco Magnone e Fabio Geda, sono due scrittori e oggi sono con noi per parlare di viaggio e Europa. Noi abbiamo deciso di creare questo format per parlare di Europa, in particolare noi saremmo dovuti partire il 18 aprile per un viaggio all'interno di un progetto che si chiama Meridiano d'Europa che portiamo avanti da tanti anni, da sei anni e saremmo dovuti andare con circa 300 ragazzi a Ljubljana. Quest'anno avremmo parlato di Europa collegato al tema dell'ambiente. Purtroppo questa cosa non è stata possibile, appunto visto i tempi che corrono non siamo potuti partire, quindi abbiamo deciso comunque di provare a parlare di Europa e anche se non abbiamo potuto fare il nostro viaggio abbiamo deciso di introdurre come tema all'interno del nostro format l'Europa collegata al viaggio. Vorremmo capire come voi intendete il viaggio, che cos'è per voi il viaggio, come lo declinate, in particolare partirei con Marco, ho qui il suo libro che si chiama L'Europa in viaggio, e quindi lui ha scritto proprio un libro che nel suo titolo ha il nome viaggio. Quindi che cos'è per lui il viaggio e come è venuta un po' fuori l'idea di questo libro e perché l'Europa in viaggio? Dunque per me sostanzialmente il viaggio è uno straordinario nutrimento per la curiosità delle persone, degli uomini e delle donne. Io sono nato in un luogo che amo, a cui sono molto legato e che in qualche modo mi emoziona ogni volta che vi faccio ritorno, una cittadina di provincia piemontese, Asti. Ma il fatto che io sia legato a quella città e le emozioni che provo quando ci ritorno per i ricordi che mi legano a quel posto, non significano automaticamente che quello sia il posto migliore in cui io posso vivere o il posto più interessante che io posso scoprire. Il viaggio è una via di fuga per combattere in qualche modo l'abitudine e il rischio che ognuno di noi pensi di essere una pianta con delle radici, dimenticandosi che invece noi uomini e donne abbiamo i piedi che sono fatti per scoprire, per incontrare nuove persone, per vivere nuove sfide e affrontare ostacoli. Il viaggio, oltre però a essere un nutrimento in questo senso, ci insegna anche che è il modo migliore per imparare ad amare davvero magari i luoghi da cui noi proveniamo, perché solo confrontandoli con quelli che non conosciamo possiamo capire meglio magari che cosa ci piacerebbe cambiare di quei luoghi o magari anche mettere in dubbio le nostre certezze, facendoci delle domande. E poi il viaggio trovo sia anche un incredibile antidoto, in un momento in cui si parla molto di antidoti, che non ci sono, in questo caso c'è, ed è un antidoto allo stereotipo che si è annidato nella testa di molte persone, per cui l'altro, chi è diverso da noi, possa essere automaticamente un nemico. Questo è qualcosa che si tende a pensare tanto più non lo si incontra quest'altro. Invece viaggiando, incontrando l'altro, incontrando il diverso, la cosa più straordinaria è che allo stesso tempo scopriamo cose che non conoscevamo, ma nello stesso momento abbiamo anche l'opportunità di scoprire che quell'altro, il diverso, in fondo condivide le nostre stesse paure, i nostri stessi sogni, le nostre stesse emozioni, pur nella diversità culturale e geografica. E quindi allo stesso tempo è qualcosa che ci arricchisce e che ci fa sentire molto meno soli. Io ho scritto questo libro, L'Europa in Viaggio, proprio per raccontare un viaggio mio alla scoperta del significato e del senso che può avere oggi una parola come Europa, che va molto oltre l'idea anche di Unione Europea, ma nella mia testa è una sorta di educazione alla complessità, proprio per insegnarci che ognuno di noi è allo stesso tempo tante cose. Non è solo chiuso nei confini nazionali dello stato in cui vive, ma allo stesso tempo è molto altro. Ed è prima di tutto però questo libro la storia di un altro viaggio, del viaggio di un continente che si è fatto laboratorio dopo la Seconda Guerra Mondiale per provare a immaginare un futuro diverso da quello segnato delle guerre che l'avevano attraversato, la guerra franco-prussiana, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, tre guerre che per tre generazioni consecutive stavano trasformando il nostro continente in un cimitero. Ecco, Altiero Spinelli e Rossi e Colorni sull'isola di Ventotene hanno immaginato che per uscire da quella spirale di guerra non fosse sufficiente che il conflitto bellico finisse, ma che fosse necessario pensare di ribaltare il tavolo da gioco e uscire da quella dinamica, da quel circolo vizioso in un unico modo, ovvero tutti insieme, smettendo di considerare chi ci sta vicino, l'altro come un potenziale nemico, ma unendo le forze, perché altrimenti la guerra poteva solo essere sospesa, ma si sarebbe sicuramente ripresentata. Io rilancio la domanda a Fabio Geda, anche nei tuoi libri come Nel mare ci sono i coccodrilli o per il resto del viaggio sbarrato agli indiani, ricorre questo tema del viaggio, un viaggio sicuramente diverso rispetto a quello presentato da Magnone, però insomma il viaggio come esperiente narrativo dell'evoluzione di dei personaggi con delle storie molto particolari, quindi qual è, come è declinato il viaggio nei tuoi invece di libri? Ma allora, nei miei libri molto spesso è declinato come dire, come metafora della trasformazione che tutti quanti attraversiamo costantemente nelle nostre vite, siamo chiamati in qualche modo a uscire dalla nostra zona di comfort per andare a capire chi siamo, no? Il viaggio è trasformazione, il viaggio è scoperta, no? Ovviamente. Ma ci sono molti tipi di viaggi che possono essere fatti e alcune volte viaggiamo perché vogliamo farlo, no? Noi siamo tra quelli che possono viaggiare perché vogliono farlo, perché scelgono di farlo. Altri invece sono costretti a farlo, perché magari il luogo che loro chiamavano casa non è più luogo adatto ad ospitarli, quindi sono obbligati a mettersi in viaggio, magari non vorrebbero farlo, no? Come nel caso di in Ayatollah, nel mare ci sono i coccodrilli, ma anche ad esempio come nel caso, tu citavi Margherita per il resto del viaggio sparato agli indiani, Emil, no? È costretto a mettersi in viaggio perché deve cercare suo nonno, perché deve cercare in quel caso un posto da chiamare casa che equivale a una persona. Quindi, sono viaggi che predispongono alla trasformazione. I racconti, nei miei racconti raramente i miei personaggi decidono, no? Come dire, in maniera, diciamo così, allegramente borghese di mettersi in viaggio perché, no? Il viaggio è una bella esperienza, conosco altra gente, conosco altri popoli, imparo altre lingue, mangio altri cibi, che va tutto benissimo, ma sono obbligati a mettersi in viaggio. Paradossalmente, nel caso di in Ayatollah, abbiamo il caso di qualcuno, in Ayat, il protagonista di Nel Dì, nel mare ci sono i coccodrilli, abbiamo il caso di qualcuno che voleva, che non voleva mettersi in viaggio, è stato costretto a mettersi in viaggio e di nazioni in azione hanno sempre impedito di farglielo fare quel viaggio, no? Quindi non solo era qualcuno che non voleva mettersi in viaggio, ma è stato obbligato a farlo, cioè stava semplicemente scappando dalla propria casa in fiamme, ma c'era qualcuno di fronte alla porta che gli impediva di uscire da quella casa. E questa è una situazione ovviamente profondamente paradossale. La parte su cui adesso vorremmo provare ad addentrarci è un po' il come cambia il viaggio, no? Come cambia il tema del viaggio? In questo momento siamo tutti costretti a casa da una situazione appunto, come dicevate entrambi, complicata e siamo impossibilitati al viaggio, quindi come noi non siamo riusciti a fare un viaggio, la nostra idea in questo momento di movimento cambia. Cambia, cambierà, subirà dei cambiamenti sicuramente in futuro, il modo in cui viaggeremo, il modo in cui ci sposteremo, il modo in cui incontreremo anche l'altro, no? Prima Fabio ha detto il viaggio, a volte la casa è rappresentata anche da una persona, no? E quindi il modo anche, come le persone saranno casa, forse anche in un modo diverso. E in particolare tu Marco, nell'Europa in viaggio racconti di come molto spesso noi giovani, o comunque nel viaggiare in Europa noi ci rendiamo conto della nostra libertà di spostamento, di quanto questa libertà noi la diamo per scontata, è quasi come se tu anticipassi questo momento perché dici questa è una libertà che noi abbiamo e che spesso diamo per scontata. Ecco, adesso non è affatto scontata. Come ti immagini che cambierà? Per cui scusami, ma allora Marco ha anticipato parte della situazione di adesso nell'Europa in viaggio e parte in Berlin. E già è vero! Ti porta sfiga chiaramente lui, adesso vorrei dire della coppia, cioè vorrei sottolineare questo. Sì sì, Fabio infatti mi ha rubato l'osservazione, nel senso che questo tecnicamente si chiama essere un corvaccio del malaugurio, nel senso che con Fabio per sei anni abbiamo scritto una saga Berlin appunto che raccontava di un misterioso virus che colpiva e uccideva tutte le persone adulte lasciando vivi i ragazzi e le ragazze fino a 16-18 anni. E tra l'altro anche in quel caso era un virus il cui primo ceppo era in Germania e tra l'altro il famoso paziente zero europeo pare sia proprio arrivato dalla Germania anche nel nostro caso. Mentre nell'Europa in viaggio metto, e quindi lì la colpa è assolutamente condivisa, perlomeno voglio dire, anzi dovrei proprio sottolineando le cose era un'idea di Fabio quella. Mentre invece nell'Europa in viaggio io proprio, come dicevi bene tu, parlo di alcuni elementi della nostra vita che davamo per scontati, proprio come la possibilità di attraversare confini senza nemmeno accorgerci che quelli erano confini. Pensiamo per esempio a che cosa succede oggi se noi volessimo passare il confine tra la Germania e la Francia nei pressi del bacino della Rur, se volessimo andare da Friburgo a Strasburgo. Ecco, quel confine e quella regione, il controllo di quella regione, la Rur, è stata praticamente una delle cause più importanti dei tre conflitti di cui parlavo prima. È stato uno dei confini più sanguinosi della storia europea. Oggi noi... Che è uno dei motivi per cui nasce anche la cieca, no? Cioè per limitare... Assolutamente. Ribaltare, ed era proprio questo l'aspetto rivoluzionario delle prime comunità europee, trasformare uno, trasformare anzi il motivo del contendere in un motivo di fratellanza e di unione. Fino a qualche mese fa noi, in quel confine, potevamo passare a attraversarlo senza nemmeno rallentare, senza nemmeno accorgerci che lo stavamo attraversando, continuando anzi a navigare su internet, a telefonare a casa come se fossimo nel nostro paese e nemmeno ad accorgerci che passavamo da un paese all'altro. Potevamo attraversare quel confine liberi di andare a cercare lavoro in qualunque... in ognuno dei due paesi, anche da italiani, sapendo che se ci fosse successo qualcosa avremmo potuto ricevere cure mediche, gratuite, esattamente come se fossero nel nostro paese, e oltre che studiare potremmo andare a lavorare e fare quello che volevamo senza dover chiedere il permesso a nessuno. Ma questa non era la norma, per due ragioni. La prima è che nemmeno per noi italiani e europei, che abbiamo i passaporti più potenti al mondo, ovvero quelli che ci consentono di andare in più paesi, nemmeno per noi è così nel resto del mondo. Perché se noi proviamo ad attraversare via terra, un qualunque confine fuori all'Unione Europea, ecco, vediamo che le dogane esistono, quelle in cui veniamo fermati, quelle in cui ci viene chiesto il passaporto, quello in cui ci viene chiesto il permesso di soggiorno, che è sostanzialmente un documento che tu devi richiedere al paese dove vuoi andare, che devi pagare per ottenere, se hai la possibilità di farlo. Io ho attraversato via terra, l'ultimo confine, un confine molto molto tranquillo, come quello che separa il Canada e gli Stati Uniti. Per due ore sono stato chiuso in un prefabbricato ad aspettare che quelli davanti a me venissero interrogati, senza avere la possibilità di comunicare in nessun modo con l'esterno, perché i nostri cellulari erano stati, avevamo ricevuto l'ordine di lasciarli in auto insieme ai bagagli, senza vedere quello che gli succedeva. E noi eravamo cittadini europei, e davanti a noi abbiamo visto bambini di 6-7 anni sentirsi chiedere se i loro genitori dicevano la verità oppure no. Ripeto, noi non eravamo messicani, non eravamo al confine tra gli Stati Uniti e il Messico, non eravamo in uno di quei confini la cui cruenza, la cui difficoltà arriva sui media, eravamo cittadini europei tra il Canada e gli Stati Uniti. E questa è la norma. Una norma che noi abbiamo la fortuna, per i passi avanti fatti dall'Unione Europea, in qualche modo di esserci dimenticati. Ma di nuovo, noi ci siamo anche dimenticati il fatto di aver vissuto per 70 anni in una sorta di mega Stato fortezza. Perché appena al di là dei nostri confini, noi ci dobbiamo ricordare qualche volta che il prezzo della nostra libertà in qualche modo viene pagato da tutti quegli uomini e donne che non decidono di farsi una vacanza in Canada o negli Stati Uniti, come ho fatto io, ma che sono costretti a viaggiare, come diceva Fabio, per salvarsi la vita. Ecco, e oggi chi vuole entrare in Unione Europea da certe parti di mondo semplicemente non ha canali legali per farlo. E noi tutto questo continuiamo a dimenticarci. E oggi, naturalmente, tutto questo di colpo ci viene sbattuto in faccia, non solo perché non abbiamo più la possibilità di andare in Francia, in Germania e di viaggiare negli altri paesi dell'Unione Europea, ma perché non abbiamo magari la possibilità di andare nella nostra seconda casa che normalmente utilizziamo nelle vacanze, che magari è in un altro comune, è in un'altra regione. E questo ci sembra la fine del mondo. E il fatto che ci sembri la fine del mondo la dice lunga sulle differenti prospettive di vita di una situazione che noi consideriamo normale, ma che è normale per noi cittadini fortunati che siamo nati dentro i perimetri di un continente che in qualche modo fa sì che noi abbiamo dei diritti che troppe, troppe persone continuano a non avere e le diseguaglianze continuano ad aumentare. Mi viene in mente un collegamento in realtà perché noi due anni fa abbiamo fatto il tema del nostro meridiano d'Europa era proprio l'integrazione europea e siamo andati a Belgrado. Quindi dovevamo passare ben tre frontiere, quella slovena, quella croata e quella serba. Al confine croato e al confine, come sappiamo, insomma la Croazia non è all'interno di Schengen quindi ci sono comunque le frontiere, quindi abbiamo passato senza nessun problema il confine sloveno. A quello croato, no, a quello bosniaco e a quello serbo ci hanno rimandato indietro dei ragazzi. Però i nostri ragazzi hanno davvero potuto provare a toccare con mano che cosa significa essere rispinto a un confine. perché gli è successo cittadini italiani. rivolgo la domanda a Fabio proprio perché i protagonisti sono diversi e vivono delle storie molto complicate. Nonostante mi colpisca, come per esempio nel caso di Emil, nel libro Per il resto del viaggio sbattato degli indiani, questa un po' innocenza dettata un po' forse dall'età che hanno questi ragazzi, del loro movimento, senza rendersi conto delle frontiere che stanno attraversando e senza rendersi conto forse dei grandi limiti che hanno la loro stessa libertà di movimento. Quindi però anche nel caso di Enato là invece abbiamo un viaggio estremamente complicato, ostacolato e quindi non percepiamo questa libertà di movimento come la percepiamo noi sicuramente. Rispetto all'età, hai perfettamente ragione Margherita, nel senso che io uso spesso poi la giovanissima età dei miei personaggi proprio come un modo per permettere anche al lettore adulto di guardare al mondo con una specie di, alle volte anche proprio di naività, come dire, di leggerezza, di stupore che è tipico di quell'età. I miei personaggi sono piuttosto inconsapevoli in questo senso, e infatti le loro, come dire, ma anche lo stesso Enayatollah, voglio dire, cioè quello che più di tutti, che tra l'altro è una storia vera, non è neanche inventata, cioè quello che più di tutti proprio rischia la vita, gli sparano addosso, no? Attraversa montagne, camminando per giorni nella neve, con un equipaggiamento assolutamente inadatto, però anche lui comunque lo fa senza davvero essere consapevole di quello che sta facendo e di come lo sta facendo. E questo fa parte in qualche modo della resilienza, no? straordinaria dei ragazzini che si mettono in viaggio e dello stupore con cui un ragazzino che si mette in viaggio vive l'esperienza stessa del viaggio. in questo senso, ecco, come dire, io uso, uso l'età dei miei protagonisti per questo. Fabio, tu come pensi che possa cambiare l'idea del viaggio? Come può cambiare? Come può cambiare? Ma dici rispetto alla situazione attuale? Sì, rispetto alla situazione attuale, ipotizzando anche di, non lo so, di continuare una delle tue storie. Come può cambiare l'idea stessa del viaggio? Ma, anzitutto, come dire, l'idea che si possa, che noi si possa in qualunque momento viaggiare, già, e che è modificata, nel senso che molto probabilmente per il resto dell'anno non potremmo andare all'estero, voglio dire. Io ho mio fratello alle Canarie e tutti gli anni, come dire, no, lui viene qua, noi andiamo lì, e quest'anno mi sa che non ci vedremo, nel senso che non sarà possibile probabilmente né per lui nel corso del 2020 venire in Italia, né per noi andare in Spagna. E quindi, come dire, già mi sembra assurdo, no, che nella mia vita, come dire, io, cittadino occidentale, europeo, abituato a potermi muovere perlomeno nella mia fetta di mondo, molto, molto liberamente, già non potrò farlo. Ma la cosa straordinaria è che in questo momento, anche per un piemontese come me, la Liguria è terra straniera. Sicuramente questa esperienza ci sta facendo vedere le cose sotto un altro punto di vista, che banalmente è quello che succede quando ciò che abbiamo dato per scontato sparisce, no? Ecco, il viaggio, la possibilità del viaggio è qualcosa, come già anche Marco ha più volte detto perfettamente, gente come noi dà per scontato. Bene, non è così, come dire, non è così, o perlomeno quando ritorneremo a darlo per scontato, io spero che questo accada, accada anche, insomma, in tempi, in tempi non così, non così drammatici, però forse, come dire, lo terremo più da conto, ecco, no? Non sarà più quella roba così, ecco. Io un'ultima domanda ce l'avrei, che è più legata, insomma, a questo momento, che è come ve lo state vivendo, se vi state prendendo il vostro tempo per scrivere in pace, visto che comunque siate due scrittori, ecco, come vivete da esseri umani e non attraverso, insomma, non guardate attraverso i vostri libri questo momento. Allora, guarda, c'è solo una cosa che può capitare a uno scrittore che si appresta a entrare in due mesi abbondanti di isolamento, lockdown, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero che esattamente 24 ore prima che chiudano tutti i negozi e gli esercizi commerciali, la tastiera del suo Mac decida di rompersi. Vabbè. E che quindi sia costretto, e parlo di me in terza persona perché mi vergogno, a quindi prendere appunti sul taccuino, fotografarlo con l'iPhone, mandarsi poi le foto, oppure prendere appunti sull'iPhone, mandarsi le mail sulla sua casella di poste e poi fare copia e incolla di tutte queste cose qua. E quindi quando mi chiedono ma tu riesci a mantenere alta la concentrazione, a scrivere, oppure questa grande narrazione in cui siamo immersi prende il sopravvento rispetto a quello a cui sto lavorando, la mia risposta è mi piacerebbe saperlo, perché sarebbe già una gran bella notizia. E quindi come si fa? Niente, si cercano dei placebo nella lettura e nell'abbonamento a qualunque tipo di piattaforma per film, contenuti e serie tv in streaming. Per fortuna il mio Mac funziona, invece io avevo un libro in consegna a fine giugno che è diventato in consegna a fine maggio perché ovviamente ho avuto un sacco di tempo per portarlo avanti, tra l'altro è il seguito di Nel mare ci sono i coccodrilli, nel senso che quest'anno abbiamo fatto con Enayatollah i dieci anni dalla pubblicazione dei coccodrilli. Visto che tantissimi ci scrivono per chiedere come sta, cosa fa, se ha più visto sua mamma, insomma tutte queste domande classiche che al lettore vengono in mente, lui aveva molta voglia di provare a raccontare invece questi non dieci ma dodici anni, nel senso che tecnicamente il libro finisce nel 2008, cioè il giorno in cui lui risente la mamma al telefono è il 2008, quindi sono passati dodici anni e sono successe un sacco di cose effettivamente nella sua vita in questi dodici anni, cose anche molto molto grosse e lui aveva molta voglia di raccontarle e quindi abbiamo deciso di rimetterci al lavoro, quindi nell'autunno ci siamo visti, trovati decine e decine di volte per fare il nostro lavoro di raccolta, di condivisione delle informazioni, a quel punto io avevo tutta questa bella massa di informazioni, e così boom, è esploso il caos, mi sono ritrovato fermo a casa e mi metto perfetto, che devo fare? Mi metto a scrivere. Grazie mille per averci, per aver dedicato questo spazio a questa tematica che crediamo sia fortemente importante soprattutto perché è la centrale nel nostro progetto del meridiano d'Europa, quindi l'Europa da una parte, ma poi l'esperienza del viaggio e niente, speriamo di rivederci magari non attraverso questi schermi in futuro e niente, noi vi auguriamo una buona fine di quarantena, si spera. La rivalutazione del tempo è sicuramente una cosa che ci terremo stretta. Vi ringraziamo ancora. Grazie. Grazie mille. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Buon pomeriggio. Anche a voi, buon lavoro.